La ristrutturazione di questo istituto nel centro storico è importante anche proprio come presidio di legalità per tenere lontani i ragazzi da brutti ambienti, qui come alla sanità, quindi quanto è importante iniziare dalle scuole? Ma è importantissimo, se andate a vedere numericamente la quantità di risorse come città metropolitana e comune di Napoli abbiamo dato e daremo e realizzeremo per le scuole vi fa capire quanto per noi è strategica la scuola, innanzitutto perché si possa stare in ambienti straordinariamente belli e storici come questi, ma anche accoglienti, anche magari aperti oltre le ore scolastiche, punto di riferimento, ragazzi che vivono il concetto di comunità, di solidarietà, è l'amore, la forza e la passione per costruire tutti insieme una città diversa e che quindi si possano cancellare quelle brutte pagine che ancora ci sono, seppur molto minoritarie, ma ci sono nella nostra città.